Negli ultimi anni è aumentato il numero di genitori che hanno deciso di non vaccinare i propri figli. In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute 2013, sono in netto calo le vaccinazioni obbligatorie per i bambini, dall'antitetanica all'antipolio. Il dato ha preoccupato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha chiesto un incontro urgente con il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Siamo partiti dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per analizzare il caso e, magari, fare chiarezza di fronte ai tanti interrogativi che oggi i genitori si trovano davanti in materia di vaccini. Arriviamo alle Marche. Negli ultimi due anni in Regione, la percentuale di vaccini con vaccino anti-MPR, ovvero morbillo, parotite e rosolia, è calato, per scelta dei genitori, di quasi 5 punti percentuali. Ce lo ha confermato anche il coordinatore del gruppo tecnico vaccini della Regione Marche, il dottor Daniel Fiacchini. Questo rappresenta un problema? Questo significa che ogni anno c'è una quota di popolazione, una quota di bambini non immune, non immune nei confronti di malattie appunto come il morbillo, parotite e rosolia. Questo significa che ogni anno noi stiamo accumulando, diciamo, fette di popolazione suscettibili alla malattia e questo significa anche che un domani il virus come il morbillo, che è un virus molto contagioso, potrebbe avere gioco facile a determinare epidemie anche estese. Ecco alcuni dei principali dubbi dei genitori. Si può aspettare far fare quindi i vaccini quando il piccolo è più grande? A quale costo? Nel senso il costo è quello di lasciare il bambino scoperto, non protetto, per mesi, anni. Quindi il costo è il costo della non prevenzione, quindi il rischio che il nostro figlio sia male di una malattia che era prevenibile. Spesso per i genitori che hanno dovuto fare conti con un grande dolore, parlare di statistiche è rispettoso. Ma possiamo allora dare qualche informazione in più? A chi dice che i vaccini possono causare autismo, cosa rispondiamo? Rispondo che è un argomento che ho molto a cuore. Io rispondo come risponde la comunità scientifica. Non esiste nesso causale, diciamo così, tra la vaccinazione MPR e l'autismo. E questo non lo dice un singolo esperto, ma lo dicono le evidenze scientifiche. Abbiamo decine e decine di studi scientifici, revisioni di letteratura, che stanno a indicarci che non è dimostrabile un nesso di causalità tra vaccino MPR e autismo. Altro dubbio. Ci sono problemi a fare così tanti vaccini tutti in una volta? La vaccinazione contro tante malattie diverse non aumenta il rischio di effetti collaterali? Ci sono problemi a fare tanti vaccini insieme? La risposta è no. Abbiamo milioni di dosi di vaccini somministrate che dimostrano che la cosomministrazione di più vaccini è assolutamente possibile. Questa è una cosa lecita. Il nostro sistema immunitario è un sistema immunitario perfetto, già quando siamo piccolini. Le cellule T e le cellule B della memoria sono presenti nel corpo umano già dopo la quattordicesima settimana di gestazione. Quindi parliamo del bambino, del feto, diciamo, nella pancia della mamma. Queste sostanze vengono viste dal nostro corpo, dal nostro sistema immunitario come strane. Noi siamo capaci di rispondere a centinaia e migliaia di stimoli antigenici contemporaneamente. Quando introduciamo un vaccino introduciamo una ventina, al massimo 30 antigeni nel primo anno di età. I vaccini possono superare i livelli di guardia per tossicità. E qual è la tossicità degli additivi contenuti nei vaccini? La tossicità è dose dipendente. L'alluminio contenuto nei vaccini ha dosi che non sono tossiche. Il mercurio non è più contenuto nei vaccini. La formaldeide, per esempio, utilizzata nei vaccini è in quantità millesimali e anche questo non determina tossicità. Quando parliamo di un vaccino, come quando parliamo di qualsiasi altro farmaco, noi stiamo parlando di una molecola, stiamo parlando di una sostanza che viene introdotta sul mercato perché ha passato tutta una serie di controlli di sicurezza. Non è meglio sviluppare l'immunità naturale piuttosto che quella vaccinale? Mi chiedo a quale costo. Quando si prende il morbillo, il problema non è il morbillo in sé per sé, il problema sono le complicanze del morbillo. Ecco, allora vorrei che non dimenticassimo, forse i nostri nonni se lo ricordano meglio di quanto lo possiamo fare noi, che il morbillo in un caso, ogni mille casi di morbillo, esita in un'encefalite. L'encefalite da morbillo mette a rischio la vita del bambino. Un caso su cento si sviluppa una polmonite da morbillo. Non siamo più abituati alle complicanze del morbillo. Purtroppo il morbillo è matematico. Ogni mille, duemila casi di morbillo c'è il caso di un decesso. E nel 2015 morire per una malattia infettiva, qualsiasi essa sia, è una cosa inaccettabile. Tecnicamente si parla di mortalità evitabile. Non accettiamo che un bambino possa morire di malattia infettiva. Il dibattito sulle vaccinazioni è ampiamente presente anche nei social network e nei blog, dove ci si scambiano informazioni. Ma non tutte sono attendibili. Controllate sempre che nel sito sia identificabile lo scopo e il responsabile, se c'è un possibile conflitto di interesse e se sono chiaramente distinguibili i fatti dalle opinioni.